E mediante le opere buone che compiamo con amore e con gioia verso il prossimo, la nostra fede germoglia e porta frutto. Domandiamoci, ognuno di noi, e risponda nel proprio cuore. Domandiamoci, la nostra fede è feconda? La nostra fede produce opere buone oppure è piuttosto sterile e quindi più morta che viva? Queste domande è bene farcele, e farcele spesso, perché alla fine saremo giudicati sulle opere di misericordia. Grazie. Grazie.